Toyota Urban Cruiser 1.4 turbodiesel 4 ruote motrici AWD allestimento luxury immatricolato nel 2009 ad ottobre ha percorso pensate solo 63.000 km c'è il libretto dei tagliandi e ve lo mostreremo per aprirla basta avvicinarsi alla vettura col telecomando in tasca tirare la maniglia e voilà interno in pelle stupendo ecco qua i chilometri 63.000 qui vediamo il tasto del bloccaggio differenziale e dell'SP cambio 6 marce e i consumi sono veramente molto molto bassi per essere una vettura a trazione integrale vieni a visionare e a provare questa vettura alla Lentical a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia chiamaci subito o whatsapp per qualsiasi informazione ciao